Il Paradisi delle Signore, gravina sul padre di Odile, un mistero lo avvolge. Lunedì 11 settembre debutterà su Rai 1 la nuova stagione del Paradisi delle Signore. Il pubblico seguirà ancora una volta le vicende dei personaggi dei grandi magazzini e quest'anno si prevede un grande sviluppo. Adelaide di Santerasmo, in particolare, riserva conseguenze non volute per l'opinione pubblica. Nel nuovo episodio, gli spettatori assistono alla rivelazione che Adelaide è la madre della giovane donna. In una recente intervista, la sua traduttrice Vanessa Gravina aveva previsto che essere madre sarebbe stato un po' intimidatorio per il personaggio. Per quanto riguarda l'identità del padre di sua figlia, l'attrice ha rivelato, c'è un mistero dietro quest'uomo. Anteprimale di Sparadais 8, Vanessa Gravina, Adelaide non sapeva di essere mamma l'attrice Vanessa Gravina interpreta Adelaide di Santerasmo da molti anni. Ogni nuova stagione di Lady's Paradise, questo personaggio è stato al centro di un mistero. Quest'anno la contessa torna sulla scena con una rivelazione sconvolgente, senza deludere il pubblico. La donna ha una figlia di nome Odile. La presenza di quest'ultimo apre le porte a nuove domande a cui Vanessa Gravina ha provato a rispondere in un'intervista al settimanale di Piutf. Innanzitutto l'attrice ha spiegato che la contessa non sapeva che fosse sua madre. Infatti, era convinta di aver dato alla luce una bambina, ma morì poco dopo. Questo è quello che le ha detto il padre della ragazza, ha rivelato l'attrice. Secondo l'anteprima, questi dettagli sul passato di Adelaide dovrebbero essere rivelati. Vanessa Gravina parla del padre di Odile nel corso dell'intervista Vanessa Gravina ha risposto ad una domanda riguardante l'identità del padre di sua figlia. Il nome dell'ex amante della contessa, Umberto Guarnieri, è stato menzionato più volte su molti siti web. Quindi sembra che l'attrice abbia voluto chiarire che questo cinico banchiere non era il padre di Odile. Resta ancora un mistero, lasciatelo scoprire poco a poco dal pubblico. Ma l'interprete milanese si aspettava qualche piccolo dettaglio. Secondo il trailer, l'uomo che avrebbe fatto parte della vita di Adelaide quando lei aveva poco più di vent'anni, ha un grande segreto. L'attrice, inoltre, ha rivelato che l'incontro tra i due è sembrato incredibile. L'interprete di Adelaide di Ladies Paradise predice, travolti da una tempesta di emozioni, Il personaggio di Adelaide di Sant'Erasmo continua ad essere uno dei grandi protagonisti di Ladies Paradise. La trama centrale dell'ottava stagione coinvolge il passato della contessa e la relazione con sua figlia Odile. A questo proposito Vanessa Gravina ha rivelato al termine dell'intervista che il fatto di essere madre avrebbe sconvolto Adelaide. Ha aggiunto che la contessa e sua figlia sono state travolte da una tempesta di emozioni. Gli spettatori possono assistere alla rivelazione della contessa che dà il via alla nuova stagione mentre aspetta di vedere quale impatto avrà la cospirazione che li prenderà. La nuova stagione debutta lunedì 11 settembre alle 15.55 su Rai 1.